Un bar al ristorante nell'immobile che ospitava il corpo di guardia. Così l'area dell'ex caserma Cadorna Cambiavolto sarà una piazza concepita in maniera nuova, strategica e funzionale al resto del centro storico, commenta l'assessore all'urbanistica Francesca Luccherini. Abbiamo infatti pubblicato il bando per la concessione in uso della palazzina in questione. Il contratto avrà durata 15 annale, con possibilità di proroga e prevede nello specifico un bar al ristorante all'interno di un volume che dopo un attento sopralluogo è stato ritenuto strutturalmente stabile di adeguata fattura e valore architettonico. Così sarà oggetto solo di ristrutturazione e adeguamento energetico prima dell'avvio dell'attività commerciale. La procedura di asta pubblica scadrà alle 13 di lunedì 11 dicembre. Saranno ammesse imprese individuali, società commerciali o cooperative, tre giorni dopo l'apertura delle buste. L'intento, prosegue Luccherini, è procedere con una riqualificazione urbana omogenea che faccia perno su questo spazio così grande del cuore della città. Vogliamo che non sia solo più un parcheggio, ma diventi un luogo d'incontro. L'immobile, che ospitava il corpo di guardia, è articolato su un unico piano fuoriterra, compie accessi dall'esterno, misura 229 metri quadrati e dispone di tre bagni. Sarà corredato anche da un resede.